Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ma prima di iniziare datemi un minuto per ringraziare lo sponsor di questo video, ovvero Too Good To Go. Too Good To Go è un'azienda a impatto sociale che mette in contatto gli utenti e i negozi partner per salvare il cibo invenduto e impedire che vada sprecato. E ora vi faccio vedere che cosa ho salvato oggi. Potete salvare le surprise bag in modo semplicissimo. Scaricate l'app di Too Good To Go, apritela, geolocalizzatevi e scegliete il negozio che preferite per salvare il cibo invenduto di quella giornata. Poi presentatevi al negozio che avete scelto per ritirare la surprise bag nella fascia oraria indicata. Amici, oggi abbiamo una missione. Andiamo a salvare una surprise bag di Too Good To Go. E riporto con me. Andiamo. Il ritorno alla routine dopo l'estate può essere stressante e impegnativo. Dopo ore di scuola, lavoro o altri impegni diventa essenziale trovare il modo di semplificare un po' le vostre giornate. Grazie a questo servizio potrete trovare tutte le attività vicino a voi che offrono il cibo della giornata invenduto ad almeno la metà del prezzo originale. In questo modo è facile trovare qualcosa di sfizioso da consumare a cena a poco prezzo. I prezzi si sono alzati vertiginosamente e Too Good To Go vi può aiutare a risparmiare. Ma Too Good To Go non è solo conveniente. Vi aiuterà anche a contribuire a un mondo un po' più sostenibile. Volete dare un sapore nuovo alle vostre giornate? Che sia una pizza stasera, un panino domani o del sushi nel weekend? Godetevi i vostri piatti preferiti senza spendere una fortuna. Aprite l'app Too Good To Go e salvate subito del buon cibo a un prezzo imbattibile. Detto questo, procediamo immediatamente col caso di oggi. In ogni comunità, tra le mura delle nostre case e lungo le strade che percorriamo ogni giorno, si nascondono storie e segreti a noi ignoti. Quanto conosciamo veramente le persone a noi vicine? Questa domanda ci costringe a riflettere su quanto possiamo essere ignari di ciò che accade intorno a noi, anche quando ci sembra di avere una conoscenza approfondita delle persone che ci circondano. Le apparenze possono ingannare e ciò che riteniamo di sapere potrebbe essere solo la superficie di una realtà più complessa e oscura. Nel caso che vi sto per raccontare, scopriremo che a volte una persona all'apparenza gentile e innocua, con cui condividiamo molte esperienze, può nascondere un passato terribile, fatto di azioni crudeli e inimmaginabili. E a volte può capitare che chiunque di noi ne faccia le spese, dimostrando quanto sia difficile discernere la realtà dalla facciata che le persone ci mostrano. Lori Slesinski nasce il 21 settembre 1981. I suoi genitori si chiamano Arlene e Casey e ha un fratello maggiore di nome Paul. La famiglia è originaria dello stato di New York, ma si trasferisce ad Auburn, in Alabama, quando Lori ha circa 13 anni. A quest'età un trasferimento potrebbe risultare difficoltoso per una preadolescente, ma Lori si adatta sorprendentemente bene al nuovo ambiente. Ad Auburn, Lori può vivere a stretto contatto con la natura. Ci sono diversi percorsi per mountain bike, sentieri escursionistici, parchi e piste ciclabili immerse nel verde. Ora la famiglia ha molto spazio per far scorazzare gli animali che Lori adora. La si può vedere in diverse foto mentre tiene tra le mani uno scoiattolo o coccola due cagnolini, uno grigio e un altro nero. Lori viene descritta come una persona molto gentile e affettuosa. Ama lo sport, le piace molto andare in bicicletta, passeggiare, guardare film e giocare ai videogiochi. Quando è abbastanza grande da potersi assumere le sue responsabilità, prende un cagnolino tutto suo che chiama Peanut. Lori adora quel cagnolino e i due sono inseparabili. È profondamente legata anche alla sua famiglia, chi ama moltissimo. Arlene, sua madre, descrive Lori come la figlia che ha sempre sognato. È una brava bambina e non le ha mai dato problemi. Lori ha una grande passione per lo studio e ottiene ottimi risultati a scuola. Dopo il diploma decide di proseguire il suo percorso accademico all'università di Uburn. I suoi genitori non fanno esattamente i salti di gioia all'idea che Lori non possa più vivere con loro. Sono un po' dispiaciuti. Tuttavia comprendono che è un passo necessario per la sua crescita e che è giusto lasciare che il loro figlia segua il percorso da lei scelto. Per sostenerla le comprano una casa mobile dove potrà vivere durante gli studi. Questa casa si trova nel Ridgewood Village Trailer Park, un parcheggio per questo tipo di alloggi pensato appositamente per gli studenti universitari. L'area è ben curata e accogliente con numerose case mobili e offre a Lori un ambiente ideale per proseguire il suo percorso scolastico. All'inizio Arlene fatica a lasciare che sua figlia viva da sola. La vede ancora come la sua bambina e le manca terribilmente. Per questo motivo la chiama ogni sera, desiderosa di sapere nei minimi dettagli come Lori trascorre le sue giornate. Per un certo periodo Lori asseconda sua madre e le racconta per filo e per segno ogni singolo dettaglio. Ma arriva un momento in cui le dice che non è necessario chiamarla proprio tutti i giorni. Promette di telefonarle lei un paio di volte a settimana per raccontarle tutto quello che le succede. Per tranquillizzare Arlene, Lori le assicura che la zona in cui abita è molto bella e tranquilla, che ha tanti compagni di università come i vicini di casa e che si trova molto bene. Con queste rassicurazioni Arlene molla un po' la presa e accetta che sua figlia sia ormai diventata una giovane donna responsabile, perfettamente in grado di cavarsela da sola. Da quel momento madre e figlia iniziano a sentirsi un paio di volte a settimana. Lori si laurea con l'Ode in psicologia con una specializzazione in giustizia penale. Anche se sogna di proseguire gli studi e conseguire un master in psicologia, per ora è comunque soddisfatta del traguardo raggiunto. Non passa molto tempo prima che Lori trovi un lavoro presso l'Alabama Mental Health Center ed è al settimo cielo quando scopre che la sua migliore amica Lindsay, conosciuta durante il primo anno di università, lavorerà con lei in quello stesso centro medico. Le due ragazze già molto legate rafforzano la loro amicizia grazie a questa loro nuova esperienza condivisa. Arriviamo a sabato 10 giugno 2006. Quella sera Lori ha in programma di trascorrere la serata con Lindsay. Il piano della serata prevede che Lori vada a casa della sua amica per guardare un film, bere qualcosa e chiacchierare. Si prospetta una serata tranquilla e rilassante. Lori chiama la sua amica Lindsay verso le 18.30 di quel pomeriggio, dicendole che sta per partire da casa. Ha intenzione di fermarsi al Walmart per prendere bevande e stuzzichini per la serata e poi l'avrebbe raggiunta. Lindsay nel frattempo sistema un po' la casa e si prepara per accogliere la sua migliore amica. I minuti passano, ma di Lori non c'è traccia. Dopo circa mezz'ora il telefono di Lindsay squilla. Quando vede che è Lori a chiamare risponde subito, ma dall'altra parte della cornetta non sente alcuna risposta e pochi secondi dopo cade la linea. Trovando la situazione un po' strana, Lindsay prova immediatamente a chiamarla, ma Lori non le risponde. Inizialmente in realtà la ragazza non si preoccupa troppo, pensa che la sua amica stia semplicemente ritardando, ma i minuti continuano a scorrere e l'assenza di Lori inizia a sembrarle sempre più insolita. Lindsay riflette sul comportamento inusuale della sua amica, ma si convince che presto Lori sarebbe arrivata e che ne avrebbero parlato. Le ore passano e Lindsay continua ad aspettare che arrivi la sua amica, ma Lori quella sera non si fa vedere. Non è da lei non presentarsi a un appuntamento senza avvisare. Lindsay vuole capire che cosa è successo alla sua amica, quindi prova nuovamente a chiamare Lori al cellulare e anche questa volta non ottiene risposta. Decide allora di tentare con il telefono fisso, ma di nuovo nessuno risponde. Lindsay a questo punto contatta alcune amiche in comune pensando che forse Lori si era fermata a casa di una di loro per qualche motivo. Magari aveva incontrato qualcuno e si era fermata a parlare senza rendersi conto del tempo che passava. Pur iniziando a percepire una leggera inquietudine, Lindsay cerca di razionalizzare la situazione. Forse è sorto qualche impegno all'ultimo minuto. Cerca di convincersi che la sua amica è semplicemente impegnata e che presto si farà viva. Pur continuando a trovare strana la situazione, Lindsay non è troppo preoccupata. Immagina che Lori abbia cambiato i suoi piani per la serata e si sia semplicemente dimenticata di avvisarla. Con questo pensiero cerca di rimanere positiva e va a letto. Le due ragazze avevano programmato di trascorrere insieme anche la mattina successiva, passando la giornata in piscina, ma anche in questo caso Lori non si presenta. Lindsay la chiama più volte durante tutta la giornata e le lascia dei messaggi in segreteria, ma, come la sera prima, non riceve alcuna risposta. A questo punto Lindsay si rassegna all'idea di non avere notizie di Lori per tutto il fine settimana. Ma poco importa se sarebbero viste il giorno successivo dato che lavorano entrambe nello stesso centro medico. Ben presto arriva il lunedì mattina. È il 12 giugno e Lindsay si reca al lavoro, certa di poter chiedere finalmente a Lori cosa fosse successo e perché non l'avesse avvisata. D'altronde Lori non si assenta mai dal lavoro, ma quel lunedì mattina non si presenta e Lindsay inizia a preoccuparsi davvero. Parla con alcuni colleghi spiegando che non ha avuto contatti con Lori per tutto il fine settimana e non ha idea di dove possa trovarsi. Il lunedì passa senza che nessuno faccia qualcosa di concreto, ma quando Lori non si presenta al lavoro neanche martedì 13 giugno, Lindsay decide di andare a parlare con il supervisore per informarlo della situazione. Lori non si è presentata al lavoro dal giorno precedente e non la sente dal pomeriggio di sabato. Si sarebbero dovute incontrare sabato sera, ma Lori non si è presentata e poi è svanita nel nulla non rispondendo più ai suoi messaggi e alle sue chiamate. Il supervisore autorizza Lindsay e un altro collega a recarsi a casa di Lori per controllare se sta bene o se è il caso di allarmarsi. Quando arrivano a casa di Lori, Lindsay si avvicina alla porta e si rende subito conto che è aperta. E questo la inquieta, perché non è da Lori non chiudere la porta di casa. Decide quindi di entrare in casa e una volta dentro si rende conto che fa molto freddo. L'aria condizionata è accesa ed è impostata ad una temperatura molto bassa. Un altro dettaglio insolito che aumenta la sua inquietudine. Lori non è solita tenere la temperatura di casa così bassa. È una persona freddolosa, ma soprattutto. Che senso ha lasciare l'aria condizionata accesa se non è in casa? Lindsay, sempre più perplessa, inizia a notare altri dettagli insoliti. Il cagnolino di Lori si trova in una grande gabbia. Lindsay gli si avvicina, lo libera immediatamente e si rende conto che sta bene. Ha mangiato, è pulito e sembra felice. Scodinzola! Non dà l'impressione di essere rimasto da solo in casa da sabato. Lori, di solito, tiene tre tappeti sul pavimento della cucina perché il suo cagnolino non ama camminare sulle piastrelle. Ma ora, Lindsay, nota che quei tappeti non ci sono più. Inoltre, manca anche un bidone della spazzatura verde in cui Lori teneva alcuni attrezzi da giardinaggio all'esterno della casa. Trovano però il coperchio di quel bidone. Lindsay sa che c'è qualcosa che non va perché Lori non lascerebbe mai Peanut da solo per giorni. Inoltre, pare che questo cagnolino sia stato accudito da qualcuno. Ma da chi? Anche questo è insolito dato che Lori non ha mai lasciato Peanut a nessun altro. Nel frattempo, la madre di Lori riceve una chiamata dal centro medico. La avvisano che sua figlia non si presenta al lavoro da due giorni. Arlene si preoccupa moltissimo perché non sente Lori dal giovedì della settimana precedente. Sono quindi circa cinque giorni che non ha sue notizie. Arlene, che lavora come infermiera in una casa di riposo, esce immediatamente dal posto di lavoro e si dirige verso casa di Lori. Mentre è per strada, chiama suo marito per informarlo della situazione e contatta anche la polizia chiedendo che venga mandato un agente presso la casa mobile di sua figlia e di poter denunciare la sua scomparsa. Lee Hodge è un agente di polizia che ha lavorato per il dipartimento di Auburn dal 1980 al 2008. È lui a rispondere alla chiamata di Arlene. Quando l'agente Hodge arriva alla casa mobile di Lori al Ridgewood Village Trailer Park sono presenti molti amici di Lori insieme alla madre. Quando entra in casa la gente si accorge subito della presenza di diversi indizi. La porta è danneggiata, segno che qualcuno ha forzato la serratura e all'interno della casa nota anche quelli che crede siano segni di lotta. Il cavo del telefono fisso di Lori è stato staccato dal muro il che significa che non ha ricevuto nessuno dei messaggi che la sua amica Lindsay gli aveva lasciato in segreteria nei giorni precedenti. L'agente nota anche dei graffi, dei segni di sfregamento e delle impronte di scarpe sulla parte bassa del muro del corridoio. Come se qualcuno fosse stato trascinato all'entrata della casa fino alla camera da letto lasciando quelle impronte e quelle tracce sul muro tentando di fare resistenza. Nella camera di Lori viene trovato a terra un orecchino a cerchio d'oro con diversi capelli incastrati. Il letto è in disordine e un telefono fisso privo di cavo giace sul pavimento. Ma non è finita qui perché all'appello manca anche l'automobile di Lori, la sua borsa con all'interno il portafoglio, un cuscino del divano e un termometro galileiano. Lindsay informa la gente di aver sentito Lori per l'ultima volta stavato pomeriggio alle 18.30 quando l'amica gli aveva detto che sarebbe passata da Walmart. La polizia si dirige quindi al grande magazzino, richiede i video delle telecamere di sicurezza di sabato 10 giugno e ottiene effettivamente la conferma che la donna è andata lì a fare la spesa. La gente lì ritiene che dopo aver fatto acquisti Lori sia tornata a casa perché all'interno e all'esterno dell'abitazione si trovano alcuni generi alimentari. Sembra quindi che le sia successo qualcosa mentre stava scaricando la spesa dato che non è riuscita a sistemare tutti gli acquisti. Purtroppo la denuncia di scomparsa sporta dalla mamma di Lori inizialmente non viene presa sul serio. La polizia ipotizza che Lori si sia allontanata volontariamente e che presto sarebbe tornata. Secondo la gente lì è meglio aspettare 48 ore prima di sporgere una denuncia ufficiale. Tuttavia la famiglia di Lori non condivide affatto questa opinione. sono certi che Lori non sarebbe mai sparita di punto in bianco in questo modo e anche i suoi amici sono convinti che le sia accaduto qualcosa. Lori questa ragazza stava attraversando un periodo molto felice della sua vita sebbene non del tutto soddisfatta del suo stipendio non sarebbe mai sparita di colpo lasciando il suo lavoro senza nemmeno avvertire e soprattutto non avrebbe mai e poi mai abbandonato il suo cane inoltre è evidente Lori è scomparsa già da più di 48 ore visto che non si hanno sue notizie dalla sera di sabato anche le condizioni della casa insieme alle numerose anomalie rilevate dalla gente indicano chiaramente che non si tratta di un allontanamento volontario pensiamo anche solo alla spesa secondo la gente Lori è uscita per fare compere al Walmart è tornata a casa per sistemare tutto ma ne ha lasciata una parte fuori dalla casa perché mai che motivo avrebbe avuto per fare una cosa del genere la polizia a questo punto decide di diramare in tutto lo stato un avviso di scomparsa descrivendo Lori e la sua macchina il giorno successivo quindi quattro giorni dopo la sua scomparsa alle 4 e 40 del mattino l'auto di Lori viene trovata completamente bruciata in una strada senza uscita appena fuori da un cantiere non lontano da casa sua osservandola gli agenti capiscono immediatamente che è stata incendiata intenzionalmente per fortuna Lori non si trovava al suo interno nel momento in cui hanno appiccato il fuoco durante la perquisizione dell'automobile e dell'area circostante trovano un mozzicone di sigaretta rollata manualmente che potrebbe costituire una prova importantissima chi rolla una sigaretta deve leccare la cartina per arrotolarla e chiuderla il che significa che possono estrarre il dna e ottenere così un profilo genetico del sospettato il giorno successivo gli agenti ritornano sulla scena per condurre un'ulteriore perquisizione e trovano una tannica di benzina in una zona boscosa alla fine del vicolo cieco dove l'auto era stata abbandonata è probabile che sia stata quella con cui hanno dato fuoco alla macchina a questo punto non si tratta più di un caso di persona scomparsa la polizia inizia a credere che sia successo qualcosa di grave a Lori Arlene la mamma di Lori è a dir poco terrorizzata all'idea che a sua figlia possa essere capitato qualcosa di brutto la polizia nel frattempo riesce a individuare rapidamente un sospettato che ritiene possa essere coinvolto nella scomparsa di Lori anche Arlene in realtà nutre sospetti su questa persona appena la gente le aveva chiesto chi avrebbe potuto aver fatto del male a sua figlia Arlene aveva immediatamente nominato Daryl Richard Dennis detto Rick Lori e Rick si erano conosciuti quando lei era ancora una studentessa universitaria si erano visti per la prima volta nella sala da bowling della zona dove lui lavorava avevano iniziato a parlare e da quel momento erano diventati amici Arlene non è la sola a sospettare fortemente che Richard possa essere il responsabile della scomparsa di sua figlia la polizia indagando scopre che gli amici di Lori avevano notato quanto fosse ossessionato da lei fin dal primo incontro l'uomo diceva a chiunque lo conoscesse quanto fosse innamorato di Lori anche a persone che conosceva malapena dirla tutta i suoi sentimenti per lei erano così intensi che prima della scomparsa di Lori era entrato in casa sua mentre lei non c'era utilizzando una chiave che lei gli aveva dato visto che erano molto amici per lasciarle una lettera d'amore lei però non era molto contenta di questa lettera Lindsay la sua migliore amica spiega che Lori era infastidita dal fatto che Rick non riuscisse ad accettare che lei non voleva essere più di un'amica per lui era irritata dal suo atteggiamento e aveva deciso che doveva assolutamente affrontarlo per fargli capire chiaramente quali fossero i suoi sentimenti al riguardo dovete sapere che Richard andava spesso a casa di Lori e conosceva anche la sua famiglia tuttavia questo non è l'unico motivo per cui la polizia sospetta di lui infatti quest'uomo è stato anche l'ultima persona ad aver visto Lori prima che scomparisse infatti quando Lori e Lindsay si erano sentiti al telefono alle 18 e 30 di sabato prima che Lori andasse a prendere delle bevande e qualcosa da mangiare per poi andare a casa dell'amica Lindsay aveva sentito Richard parlare con Lori in quel momento non aveva assolutamente pensato che fosse strano Lori e Richard si conoscevano ed erano amici ma poi quando Lori è scomparsa e ha smesso di rispondere al cellulare una delle prime persone che Lindsay aveva chiamato era proprio Richard sperando che sapesse qualcosa dato che era con lei qualche ora prima Richard però non le aveva risposto quindi aveva provato a mandargli un messaggio per capire se lui sapesse qualcosa Richard le aveva risposto e sembrava leggermente preoccupato gli aveva scritto che non sapeva dove si trovasse Lori ma era sicuro che sarebbe tornata presto ecco perché la polizia dubita di Richard e vuole parlare con lui gli agenti lo contattano e gli chiedono di andare in centrale lui accetta di parlare con la polizia si presenta in centrale e inizia a raccontare la sua versione degli eventi Richard non nega di aver visto Lori il giorno in cui è scomparsa anche perché alcune persone lo hanno visto spiega quindi di essere andato da lei verso le 15 del pomeriggio per salutarla e fare quattro chiacchiere era rimasto lì tutto il pomeriggio e l'aveva salutata prima che lei andasse al negozio a fare compere aggiunge però che Lori quel giorno dopo essere passata al negozio ma prima di andare a casa di Lindsay sarebbe dovuta andare a vendere della sostanza leggera a qualcuno l'uomo afferma che lui e Lori coltivavano questa sostanza nella casa mobile di lei e che ne avevano circa 3 chili che si erano spartiti a metà un chilo e mezzo ciascuno dopo la vendita Lori sarebbe dovuta tornare da lui per consegnargli circa 600 dollari Richard afferma di non sapere esattamente a chi Lori avrebbe dovuto vendere la sostanza in ogni caso stando alle sue parole la ragazza non aveva paura di nessuno indipendentemente da quanto losche fossero le persone a cui vendeva questa sostanza dopo aver salutato Lori era andato poi a Montgomery in Alabama per incontrare un ragazzo di nome Rod e vendergli la sua parte di sostanza tuttavia Rod non aveva abbastanza soldi quindi Richard era tornato ad Auburn dichiara di non aver più visto Lori per il resto del fine settimana aveva trascorso le sue giornate andando avanti e indietro da Montgomery sia domenica che lunedì fino a quando Rod non era riuscito a procurarsi i soldi necessari 2400 dollari Richard aveva preso quei soldi e li aveva seppelliti su Emily Avenue sottolinea di non poter provare di aver fatto questi spostamenti perché non sta l'indirizzo di Rod quindi gli agenti non possono rintracciarlo e il suo alibi non può essere confermato la polizia porta l'uomo su Emily Avenue nel posto in cui lui sostiene di aver seppellito i soldi ma non li trovano Richard ha una ragazza ma la loro non è una relazione seria si vedono solo occasionalmente la polizia verifica l'esistenza di questa ragazza e scopre che abita molto vicino alla casa di Lori il che significa che Richard avrebbe potuto facilmente andarla a trovare facendo una breve passeggiata se si trovava a casa della sua ragazza è proprio lì nelle vicinanze che hanno trovato la macchina di Lori questa ragazza parla con la polizia e afferma che il giorno in cui Lori è scomparsa aveva in programma di uscire con Richard ma non era riuscita a contattarlo l'aveva chiamato più volte e gli aveva scritto dei messaggi ma lui non gli aveva mai risposto le chiamate venivano subito deviate alla segreteria telefonica la polizia continua a nutrire sospetti su Richard e cerca di verificare la sua avversione riguardo alle sostanze alcuni agenti effettuano una perquisizione molto approfondita a casa di Lori ma non trovano nulla l'agente di polizia che ha parlato con Richard ritiene che le sue dichiarazioni siano sospette e contraddittorie dopo aver parlato con gli agenti Richard aveva anche chiamato la mamma di Lori Arlene per dirle quanto fosse preoccupato per la scomparsa della figlia inaspettatamente le racconta anche della vendita di sostanze che gestivano insieme e Arlene trova questa storia molto strana conosce sua figlia e sa che non si sarebbe mai messa a coltivare e vendere quel tipo di sostanze inoltre scopre che la polizia non ha trovato alcuna prova durante la perquisizione la donna trova tutto molto sospetto soprattutto perché conosceva già Richard sua figlia glielo aveva presentato e avevano trascorso insieme il Natale dell'anno precedente Lori aveva chiesto ai suoi genitori di lasciare che Richard passasse con loro quella giornata dato che lui non aveva una famiglia con cui trascorrere le festività Arlene aveva accolto Richard in casa sua trovandolo molto gentile ed educato gli avevano passato dei bei momenti insieme durante quel Natale ora però Arlene inizia a dubitare di lui le sembra strano che abbia inventato quella storia sulla vendita di sostanze e non capisce perché quel ragazzo dolce e sensibile così amico di sua figlia stia mentendo su qualcosa di così serio forse Richard ha fatto qualcosa a sua figlia e ora sta cercando di allontanare i sospetti da sé una cosa è certa da questo momento in poi Arlene smette di fidarsi di Richard quando i polizzotti lo interrogano per la seconda volta si rendono conto che Richard ha dei graffi sul braccio e sull'avambraccio sui palmi delle mani sulle dita e sulle nocche gli chiedono come se li sia procurati e Richard risponde che non lo sa ma che lì ha da qualche giorno ormai e se ricordate Lori in effetti è sparita proprio da qualche giorno decidono di perquisire anche la sua macchina trovando diversi oggetti sospetti vari prodotti per la polizia una spazzola sempre per pulire dei deodoranti per ambienti un coltello e delle manette pelose nere c'è un altro aspetto che insospettisce la polizia nonostante Richard sia stato l'ultimo a vedere Lori non ha fornito spontaneamente nessun dettaglio utile come ad esempio dove pensava fosse diretta o che vestiti indossasse almeno non prima di una settimana dopo la sua scomparsa la polizia si chiede perché abbia aspettato così tanto a fornire queste informazioni se davvero era preoccupato per Lori e desiderava che venisse trovata più presto i sospetti degli agenti si intensificano ulteriormente quando scoprono il passato criminale dell'uomo comprende precedenti penali molto gravi all'età di 12 anni Richard era stato arrestato per aver assassinato sua madre e il suo patrino questa è un'informazione confidenziale perché la notizia non era stata diffusa al pubblico durante le indagini della scomparsa di Lori a questo punto è utile raccontare più nel dettaglio il passato di Richard Linda la madre di Richard aveva incontrato Eddie Joe Flowers in chiesa i due si erano trovati bene insieme anche perché entrambi avevano già dei figli da relazioni precedenti Eddie aveva tre figlie mentre Linda viveva con il suo unico figlio ovvero Richard la coppia era stata uccisa appena dieci mesi dopo il matrimonio nel marzo 1993 il dodicenne Richard Ennis aveva ucciso sua madre Linda allora quarantenne picchiandola con una mazza da baseball e infine sparandole in faccia con un fucile calibro 22 dopo il delitto era rimasto in casa col corpo senza vita di sua madre in attesa che rincasasse anche il suo patrigno Eddie un musicista di 39 anni affettuosamente chiamato Elvis dai suoi amici per via delle sue basette al suo ritorno Richard aveva ucciso anche lui sparandogli con un fucile da caccia calibro 16 dopo aver commesso i due omicidi Richard era rimasto in casa con i loro corpi senza vita per due giorni continuando ad andare a scuola e comportandosi come se nulla fosse accaduto alla fine deciso a fuggire aveva preso l'auto di sua madre e un'altra pistola calibro 38 e si era diretto verso Brantley una zona in cui la sua famiglia aveva vissuto in passato tuttavia non era riuscito ad arrivare a destinazione perché si era schiantato contro una recinzione nella contea di Montgomery mentre cercava di allontanarsi dalla macchina a piedi era stato avvicinato da un ufficiale di polizia di nome John Clark John aveva notato Richard mentre camminava lungo un'autostrada e insospettito aveva accostato alla macchina gli si era avvicinato e gli aveva chiesto cosa fosse successo Richard gli aveva spiegato che si era schiantato contro una staccionata mentre stava guidando l'auto l'ufficiale percependo qualcosa di strano aveva chiesto al ragazzino di salire sulla sua macchina e aveva iniziato a parlargli John sentendo crescere il sospetto aveva chiesto a Richard di poter guardare nello zaino chi aveva con sé e il ragazzino aveva accettato all'interno dello zaino aveva trovato diverse munizioni e un grosso coltello da cucina sempre più allarmato dalla situazione sentendo che c'era qualcosa che non andava aveva chiesto a Richard dove fossero i suoi genitori il ragazzino si era girato lo aveva guardato negli occhi e senza alcuna emozione aveva pronunciato queste esatte parole li ho uccisi entrambi l'ufficiale gli aveva quindi chiesto dove si trovasse la sua casa Richard gli aveva comunicato il suo indirizzo e lui aveva contattato immediatamente le autorità locali per chiedere loro di andare a controllare con l'obiettivo di verificare se il ragazzino stesse dicendo la verità per una curiosa coincidenza gli agenti che avevano risposto a quella domanda in quel momento erano seguiti da una troupe televisiva che stava documentando la vita quotidiana dei poliziotti di conseguenza erano stati ripresi anche mentre entravano in quella scena del crimine quando erano entrati nell'abitazione la prima cosa che avevano notato era stata una mazza da baseball rotta e insanguinata l'arma con cui Richard aveva picchiato a morte sua madre Linda giaceva a terra con una coperta di velluto sul viso e una rosa appoggiata sul petto in casa avevano trovato anche delle prove del fatto che Richard fosse rimasto in quella casa dopo aver commesso gli omicidi e avevano addirittura individuato una lista delle cose da fare in cui il ragazzino aveva scritto che intendeva uccidere anche le sue tre sore lastre la polizia aveva quindi contattato le tre figlie di Eddie che ovviamente erano sconvolte nell'apprendere queste orribili notizie amavano profondamente loro padre e consideravano Linda una matrigna molto dolce e amorevole sapevano quanto il padre fosse felice con lei erano scosse e tristi ma allo stesso tempo si sentivano anche sollevate di sapere che la polizia aveva preso in custodia Richard dato che anche loro sarebbero potute diventare delle vittime del fratellastro le ragazze avevano fornito alla polizia maggiori dettagli sulla convivenza di Richard con Eddie e Linda Angela la maggiore delle sorelle di 19 anni aveva detto alla polizia che Richard era scostante ed era solito restare sempre chiuso nella sua camera Eddie voleva tanto bene a Richard ma non lo aveva mai forzato a instaurare un rapporto con lui comprendendo quanto fosse difficile per un ragazzino di 12 anni adattarsi alla presenza di un'altra figura maschile in casa l'uomo sapeva che non poteva imporre nulla a Richard e confidava che si sarebbe affezionato a lui naturalmente col tempo tuttavia il ragazzino era sempre distante sia da lui che dalle sue sorellastre e difficilmente voleva interagire con loro un giorno però era arrivato al punto di rubare delle armi alla famiglia minacciando di fare del male a tutti ma come purtroppo spesso accade in questi casi lo trovo assurdo nessuno lo aveva preso seriamente perché non pensavano fosse pericoloso considerando che aveva solo 12 anni Angela deciderà in seguito di entrare a far parte delle forze dell'ordine motivata da ciò che era accaduto a suo padre dal 2022 lavora per il dipartimento dello sceriffo in Florida Richard a seguito degli omicidi aveva affermato che amava sua mamma e che aveva perso la ragione il motivo per cui Richard aveva compiuto un gesto così terribile a quell'età era così insignificante i suoi genitori avevano pianificato di trasferirsi e lui non voleva cambiare scuola all'epoca il ragazzino aveva appena 12 anni e non poteva essere processato come adulto in Alabama era necessario avere almeno 14 anni per subire un processo come tale anche per un delitto così grave la famiglia sapeva che probabilmente Richard avrebbe passato meno di 10 anni in prigione e ovviamente non ne erano felici infatti Richard ha scontato 9 anni in un riformatorio durante i quali ha cercato di evadere per due volte tuttavia nessuna misura è stata presa per queste due fughe la sua pena non è stata aumentata all'età di 21 anni era stato rilasciato senza alcun monitoraggio o sorveglianza il caso era stato sigillato e secretato e Richard era libero le persone che vivevano nella zona non avevano idea di cosa fosse successo dopo il suo rilascio Richard era tornato ad Auburn dove aveva incontrato Lori e i due erano diventati amici riprendiamo quindi da dove eravamo rimasti ovvero dalle indagini sulla scomparsa di Lori la polizia ormai è convinta che la ragazza sia morta e pensa che Richard ne sia il responsabile ne sono certi ma non hanno prove sufficienti per dimostrarlo non possono nemmeno provare con certezza che Lori sia stata uccisa perché il suo corpo non è ancora stato trovato ecco perché le indagini proseguono per anni interi senza alcun esito anche perché una settimana dopo il secondo interrogatorio Richard scompare da Auburn e non viene più visto col tempo il caso di Lori si raffredda e cade nel dimenticatoio entrando a far parte dei casi considerati irrisolti ci vorranno dieci anni prima che qualcuno riapra il caso di Lori e riprenda a investigare sulla sua scomparsa e presunta morte questo avviene perché l'Alabama Law Enforcement Agency crea un'unità Cold Case guidata dall'agente speciale Mark Whitaker che insieme al suo partner John J.W. Burns viene raccomandato dalle autorità locali per indagare sul caso irrisolto di Lori Slesinski gli agenti riesaminano il fascicolo del caso rivedendo le indagini e gli interrogatori fatti in precedenza e inviano al laboratorio forense alcune prove che erano state raccolte per farle testare il caso di Lori li colpisce profondamente in particolare Mark Whitaker che afferma che guardando le foto di Lori rivede le sue nipoti passa ore e ore a guardare il video di sorveglianza del Walmart osserva Lori mentre cammina tra gli scaffali spingendo il carrello sembra serena senza alcuna preoccupazione evidente eppure dopo essere uscita dal Walmart è scomparsa senza lasciare traccia determinate a risolvere il caso i due agenti sono molto motivati vogliono scoprire la verità e ottenere giustizia per la famiglia di Lori tuttavia c'è un ostacolo significativo la mancanza del corpo di Lori si rivolgono quindi al procuratore distrettuale Brandon Hughes chiedendogli se sia disposto a perseguire Richard senza che sia stato ritrovato il corpo della vittima il procuratore ha consente e chiede di poter esaminare il fascicolo tuttavia non sarà Brandon il procuratore che porterà il caso di Lori in tribunale perché nel novembre 2020 verrà arrestato e accusato di violazione della legge etica statale e associazione a delinquere finalizzata al furto per cui alla fine sarà condannato verrà nominata una nuova procuratrice Jessica Ventiere Jessica ha una ragione personale per voler perseguire questo caso negli anni 80 sua nonna è stata uccisa mentre stava lavorando nel negozio di alimentari di sua proprietà un uomo era entrato nel negozio e le aveva sparato aveva rubato tutto ciò che pensava fosse di valore e poi era fuggito questo omicidio non era mai stato risolto proprio come quello di Lori e Jessica quindi si sente molto coinvolta afferma che nessuno dovrebbe mai farla franca per un omicidio anche se è stato abile a nascondere il cadavere della vittima gli investigatori a questo punto ottengono il via libera per costruire il caso e renderlo il più solido possibile riescono a ottenere una sala usata dal gran jury dove posizionano tutte le prove fotografiche su delle lavagne dalle foto che ho visto non sembra che utilizzino neanche un computer questa è un'indagine vecchia scuola per 15 mesi in pratica vivono per questo caso vengono coinvolti numerosi investigatori e anche diversi agenti in pensione tornano per dare una mano ai colleghi riesaminano ogni piccolo particolare senza mai prendere una pausa non esistono giorni o fine settimana liberi gli agenti interrogano nuovamente tutti i testimoni ne trovano di nuovi e individuano anche nuove prove sono molto meticolosi tanto che ritestano le vecchie prove ma analizzano anche quelle che non erano mai state esaminate come ad esempio il mozzicone di sigaretta trovato nel posto in cui è stata ritrovata l'auto bruciata di Lori è incredibile pensare che avessere una prova così essenziale importantissima come quel mozzicone che potrebbe rivelare il dna del rapitore e dell'assassino di Lori e che nessuno l'avesse mai testato fino a quel momento ma questa non è l'unica prova che contiene il dna dell'assassino nella casa mobile di Lori vengono trovate delle tracce di sangue e riescono a individuare anche delle secrezioni sulle lenzuola del letto tutto viene testato ma gli investigatori scoprono che i risultati di queste analisi esistevano già da anni le prove erano state inviate al laboratorio per essere analizzate ma a causa di un turnover nella gestione i risultati erano stati messi in una busta nel fascicolo del caso e dimenticati per ben dieci anni tutte le prove raccolte e riesaminate conducono a una sola persona Richard Ennis gli investigatori sono certi che sia l'unico responsabile della morte di Lori e che lei si è ormai deceduta il team Cold Case è convinto che il caso sia abbastanza solido per essere portato in tribunale sanno che è rischioso perseguire un caso di omicidio capitale senza corpo ma sono convinti di avere abbastanza prove per convincere la giuria della colpevolezza di Richard e sanno che non riusciranno a costruire un caso più solido di così anche trovando il corpo di Lori nell'agosto del 2018 il procuratore distrittuale Brandon Hughes fa una dichiarazione durante una conferenza stampa sottolineando che non è facile trovare Richard durante le indagini era stato infatti scoperto che Richard si spostava frequentemente e riusciva a pagare i suoi conti utilizzando l'identità di altre persone non c'è traccia quindi di documenti cartacei a suo nome è molto abile a passare inosservato infatti quando la polizia aveva iniziato a cercarlo il primo posto in cui si erano diretti gli agenti era la Carolina del Sud avevano ricevuto una soffiata che indicava che Richard viveva lì con sua moglie avevano scoperto che in realtà erano divorziati ma Richard era rimasto a vivere in quella casa gli ufficiali quindi erano andati in Carolina del Sud ma purtroppo dopo essere arrivati lì e avere iniziato a fare delle ricerche erano giunti alla conclusione che Richard non si trovasse più in quel luogo ricevono però un'altra segnalazione Richard si è trasferito in Virginia quindi si spostano lì e finalmente riescono a localizzarlo il 6 agosto 2018 il giorno del suo trentottesimo compleanno un centinaio di agenti fanno irruzione nella casa dell'uomo in Virginia dove viene arrestato con l'accusa di aver ucciso Loris Lesinsky Richard in realtà è colto di sorpresa e gli agenti scoprono che dopo il divorzio con sua moglie si è anche fidanzato a una nuova relazione con una bibliotecaria scolastica di nome Elena la donna si è innamorata di Richard rapidamente lo descrive come una persona amichevole aperta e divertente dice che è una delle persone più compassionevoli gentili e generose che abbia mai conosciuto e afferma che si è innamorata di lui anche per la sua notevole intelligenza lo sosterrà fermamente durante tutto il processo Elena afferma che non può essere lui il colpevole è impossibile anzi Richard avrebbe dato la vita per salvare Lori curiosamente dichiara tutto ciò pur essendo a conoscenza del fatto che Richard ha ucciso sua madre e il suo patrigno quando aveva 12 anni ma dovete sapere che non è stato lui a confessarglielo dopo due settimane di frequentazione Elena dato che era appassionata di genealogia aveva deciso di voler cercare il suo albero genealogico durante le sue ricerche aveva scoperto che Richard aveva commesso questi due omicidi da bambino gli aveva chiesto spiegazioni e Richard gli aveva detto che era vero avevano ucciso sua madre e il suo patrigno ma le aveva raccontato una versione diversa da quella ufficiale non le aveva detto di averlo fatto perché volevano trasferirsi bensì le ha confidato che sua madre aveva abbandonato di lui e che non l'aveva mai detto alla polizia perché si vergognava tanto e non voleva che nessuno lo sapesse Richard viene arrestato e trattenuto in prigione in Virginia senza possibilità di cauzione mentre si lavora per tentare di estradarlo in Alabama nella contea di Lee viene programmata un'udienza di estradizione ma alla fine Richard decide di rinunciarvi permettendo così di essere portato nella contea di Lee dove viene nuovamente trattenuto in carcere senza cauzione l'accusa cerca di ottenere la pena di morte per Richard poco dopo l'arresto di Richard Paul il fratello maggiore di Lori viene a mancare ad appena 41 anni a causa di un ictus stava già lottando contro un cancro trascorrono tre anni e mezzo prima che questo caso vada a processo Richard viene sottoposto a una valutazione psicologica e viene ritenuto idoneo per affrontare un processo la prima udienza si tiene nel marzo del 2022 purtroppo il padre di Lori Casey non riesce a vedere questo caso andare a processo perché nel 2020 contrae il covid e viene a mancare quando il processo ha inizio l'accusa dichiara che Lori è scomparsa dal nulla sabato 10 giugno negli anni non si è mai fatta sentire e non sono stati evidenziati i movimenti sul suo conto corrente bancario la sua macchina è stata ritrovata bruciata alla fine di una strada senza uscita Lori non aveva alcun motivo per allontanarsi volontariamente per fuggire e cambiare vita aveva diversi progetti per il futuro una famiglia che l'amava e un cane che non avrebbe mai e poi mai abbandonato il pubblico ministero ricorda alla giuria l'importanza che quel cane Peanut aveva per Lori lo amava immensamente e se vi state chiedendo che fine abbia fatto il suo cagnolino vi tranquillizzo è stato adottato da Arlene la mamma di Lori Arlene ha trovato conforto nell'averlo accanto le sembrava di avere una piccola parte di sua figlia sempre con sé Peanut ha vissuto con Arlene e la sua famiglia fino all'età di 16 anni quando è deceduto Arlene racconta che Peanut non ha mai dimenticato Lori ogni volta che qualcuno pronunciava il suo nome lui correva verso la porta d'ingresso come se sperasse nel suo ritorno tornando al processo nella dichiarazione di apertura l'accusa afferma che nessuno sa cosa sia successo a Lori nessuno sa dove si trovi tranne una persona l'unica persona che può dire dove si trova Lori è anche l'ultima ad averla vista viva ovvero Richard secondo l'accusa Richard ha ucciso Lori perché era ossessionato da lei ma lei aveva rifiutato di essere più che semplici amici lo stesso Richard aveva ammesso di desiderare qualcosa di più dicendo che per lui era difficile accettare il suo rifiuto perché nutriva per Lori dei sentimenti profondi viene sottolineato che poco prima che Lori venisse uccisa Richard le aveva scritto una lettera d'amore e gliel'aveva lasciata nel suo appartamento gesto che aveva profondamente turbato Lori viene lasciato intendere che per questo motivo Lori avesse chiesto a Richard di restituirle le chiavi di casa quando l'imputato era stato interrogato pochi giorni dopo la scomparsa di Lori gli agenti avevano notato che aveva diversi graffi sulle braccia e sulle mani che sembravano risalire a qualche giorno prima durante la perquisizione dell'automobile di Richard avevano trovato quello che sembrava un kit per commettere omicidi diversi prodotti per la polizia delle manette e un coltello l'accusa presenta queste prove chiave durante il processo per dimostrare che Richard Ennis ha assassinato Lori Slesinski ma il loro asso nella manica è un testimone chiave che afferma che Richard gli aveva confessato l'omicidio di Lori quando erano amici ci sono in realtà anche altri due testimoni che confermano che Richard spesso rollava le sigarette a mano un dettaglio cruciale visto che nel luogo in cui è stata incendiata la macchina di Lori è stato trovato un mozzicone di sigaretta rollato a mano inoltre l'accusa riesce a collegare Richard anche alla tannica di benzina trovata sul luogo dell'incendio e ai tappeti della cucina e infine al termometro galileiano scomparsi nella casa mobile di Lori l'accusa chiama alla sbarra un testimone di nome Jeremy un collega di Richard quando lavorava al bowling non lontano dal luogo in cui è stata trovata la macchina di Lori nel 2006 Jeremy afferma che la sera del 9 giugno 2006 era a casa e si stava preparando la cena tranquillo quando aveva ricevuto una chiamata inaspettata da Richard Jeremy ha trovato insolito questo fatto e Richard non lo aveva mai chiamato prima durante questa telefonata Richard gli aveva detto di aver finito la benzina e gli aveva chiesto di portarglene un po' Jeremy avrebbe decisamente preferito stare a casa quella sera ma il suo collega era in difficoltà così aveva deciso di dargli una mano dopo cena era andato al bowling dove lavorava per prendere una tanica di benzina si era diretto a una stazione di servizio aveva riempito la tanica e poi aveva incontrato Richard nel parcheggio di una chiesa della zona arrivato alla chiesa si era fermato accanto a Richard ma col senno di poi afferma che quella situazione era strana perché Richard era riuscito a parcheggiare la macchina perfettamente Jeremy aveva abbassato il finestrino era sceso e si era avvicinato al veicolo di Richard c'è però un altro fatto insolito Richard gli aveva chiesto di riempire il serbatoio di benzina Jeremy gli aveva risposto che non era il suo benzinaio e che quindi poteva farlo da solo Richard dunque era sceso dalla macchina aveva riempito il serbatoio di benzina e poi aveva chiesto a Jeremy se potesse tenere la tanica Jeremy gli aveva detto che non poteva lasciargliela doveva restituirla dato che l'aveva presa dal luogo di lavoro Richard a quel punto era rientrato in macchina e appena aveva messo in moto il veicolo era partito immediatamente anche questa cosa insospettisce Jeremy che è appassionato di automobili e sa che in genere un veicolo rimasto senza benzina ha bisogno di qualche tentativo per rimettersi in moto dopo aver riempito il serbatoio in quel momento però non ci aveva fatto molto caso voleva solo tornare a casa aveva quindi preso la tanica di benzina e l'aveva riportata al bullying per poi rincasare non aveva più riflettuto sull'accaduto almeno fino a quando non era stato chiamato dalla polizia per essere interrogato sulla scomparsa di Lori e sul ritrovamento della sua auto bruciata afferma che quando era stato interrogato si era reso conto che la tanica di benzina che aveva restituito era scomparsa la polizia gli aveva mostrato la foto della tanica di benzina trovata vicino alla macchina di Lori e Jeremy aveva affermato di credere che fosse proprio la tanica di benzina della sala bowling la difesa però sostiene che esistono un'infinità di taniche di benzina rendendo impossibile concludere con certezza solo da una foto che si trattasse proprio di quella scomparsa dalla sala da bowling Jeremy però ribatte che la dimensione il colore e la forma nella parte alta di quella tanica corrispondevano perfettamente a quella scomparsa dopo aver subito l'interrogatorio Richard lo aveva chiamato preoccupato dicendogli che credeva che la polizia lo stesse trattando come il sospettato principale Jeremy spiega che durante quella conversazione Richard sembrava frenetico e gli aveva chiesto se fosse interessato a comprare qualcosa da lui ad esempio la moto o la sua collezione di dvd Jeremy aveva la sensazione che l'uomo stesse cercando di liquidare i suoi beni per ottenere denaro velocemente e scappare un altro amico di Richard di nome Abram Sissons testimonia dicendo che lui e Richard si erano conosciuti nel 2007 lavoravano insieme ed erano coinquilini prima di andare a vivere insieme Abram era stato a casa di Richard e nella sua camera da letto aveva visto il termometro galileiano che la madre di Lori le aveva regalato per Natale tuttavia quando avevano iniziato a vivere insieme Abram non aveva più visto quel termometro Abram afferma che durante quel periodo Richard gli aveva parlato di Lori dicendo che era una sua amica scomparsa e che lui le voleva molto bene tanto che aveva vissuto per un breve periodo con lei non ci sono però prove che dimostrino che i due avessero davvero vissuto insieme Abram lo conosceva solo come Ricky e ignorava il suo vero nome un giorno però era arrivata della posta indirizzata a Richard e Abram era riuscito a leggere il suo nome completo incuriosito aveva deciso di fare una piccola ricerca su google e aveva scoperto delle informazioni alquanto inquietanti afferma di aver scoperto il crimine che Richard aveva commesso all'età di 12 anni subito dopo aver finito di dire questa frase il giudice interrompe l'interrogatorio e convoca gli avvocati per una discussione privata quando l'udienza riprende nessuno fa più domande ad Abram riguarda quella scoperta il caso essendo stato commesso quando Richard era minorenne è secretato e le informazioni non sono note alla giuria ma c'è una cosa che proprio non mi torna se il caso era stato secretato come ha fatto Abram a scoprirlo tramite internet ma anche Elena sua moglie come ha fatto a scoprirlo tramite il web se il caso era secretato questo è un passaggio che rimane poco chiaro per quanto mi riguarda se voi ne sapete qualcosa di più vi prego fatemelo sapere nei commenti parlando dei precedenti penali di Richard emerge che dopo essere stato arrestato per l'omicidio di Lori sono stati resi noti altri documenti giudiziari si scopre che nel 2003 Richard era stato arrestato per sequestro di persona violenza intima e sodomia nei confronti di una giovane donna questo caso era finito davanti a un gran giurì che aveva deciso di non procedere con l'accusa per mancanza di prove sufficienti dopo aver scoperto il passato di Richard Abram lo aveva chiamato e gli aveva chiesto di lasciare l'appartamento quella notte Abram aveva preferito rimanere dalla sua ragazza per dare a Richard il tempo di prendere le sue cose e andarsene senza che si verificasse alcun tipo di conflitto il giorno successivo l'uomo aveva chiesto alla polizia di scortarlo fino al suo appartamento per assicurarsi che Richard se ne fosse andato poiché aveva iniziato a temerlo quando era tornato in effetti Richard se ne era andato dall'appartamento ma quest'ultimo era completamente devastato c'erano oggetti rotti ovunque la stufa era accesa e dentro c'erano i resti di qualcosa che era stato bruciato Abram spiega di aver trovato una borsa vicino alla porta dell'appartamento contenente alcune cose di Richard che sembrava avesse intenzione di portare con sé ma che per qualche motivo non aveva preso tra questi oggetti Abram aveva visto tre tappeti e pensando che Richard potesse volerli indietro li aveva conservati quando Richard è stato arrestato e accusato di omicidio Abram avendo appreso la notizia ha contattato le autorità locali che lo hanno messo in contatto con il dipartimento di polizia di Auburn l'uomo aveva consegnato questi tappeti alla polizia che aveva capito immediatamente che si trattava degli stessi tappeti spariti dalla casa mobile di Lori se ricordate la ragazza li aveva posizionati sul pavimento della cucina perché il suo cagnolino non amava molto camminare sulle piastrelle durante il periodo in cui avevano vissuto insieme Abram e Richard avevano parlato di quei tappeti e quest'ultimo aveva detto al suo coinquilino che uno di essi era un regalo della sua amica scomparsa di nome Lori la polizia aveva inviato i tappeti al laboratorio per analizzarli e dai test era emerso che uno di essi era macchiato di sangue sangue che risulta appartenere proprio a Richard l'accusa a questo punto chiama a testimoniare un altro ex collega di Richard Terry Booth Terry e Richard avevano lavorato insieme al Sam's Club nella Carolina del Sud un giorno i due erano andati insieme in un bar sportivo chiamato Wild Wings Cafe mentre erano seduti a chiacchierare davanti a un drink Terry gli aveva chiesto perché avesse deciso di lasciare Auburn per stabilirsi proprio nella Carolina del Sud Richard gli aveva risposto che si era cacciato in qualche guaio e per questo motivo aveva dovuto lasciare la città inoltre aveva aggiunto che doveva occuparsi di altri affari gli aveva dovuto strangolare una cagna Terry spiega che Richard si riferiva a una donna con cui voleva avere una relazione ma che non era minimamente interessata a lui e questo lo aveva fatto arrabbiare molto inizialmente Terry aveva pensato che Richard stesse scherzando non gli aveva creduto ecco perché non aveva più pensato alle sue parole questo finché Richard non è stato arrestato anni dopo iniziano a venire pubblicati numerosi articoli sul caso e un amico comune manda a Terry un articolo riguardante l'arresto di Richard Terry dopo averlo letto si era reso conto che quella sera in cui erano usciti insieme Richard non stava affatto scherzando così aveva contattato il dipartimento di polizia di Auburn per dire loro tutto quello che sapeva la difesa a questo punto sostiene che la polizia non abbia condotto indagini adeguate e accusa gli investigatori di aver manipolato delle prove per riuscire a incriminare Richard per l'omicidio di Lori affermano di credere che la sigaretta col DNA di Richard sia stata posizionata come prova nella macchina di Lori per incastrarlo sottolineando che sebbene su quella scena fosse tutto fradicio a causa dell'intervento dei pompieri che avevano spento l'incendio quel mozzicone di sigaretta risultava bagnato solo parzialmente sottolineano inoltre che non c'è una catena di custodia atta a dimostrare che quella sigaretta sia stata trovata in quella scena e sapete qual è la cosa peggiore? Che hanno ragione la sigaretta era stata ritrovata anni dopo in una busta porta prove all'interno del fascicolo relativo al caso di Lori ma non è noto come questa prova fosse arrivata lì né come fosse stata repertata e questo è un problema un gran problema la difesa afferma che fin dall'inizio la polizia ha deciso di considerare solo Richard come sospettato e che da allora il loro obiettivo era farlo condannare a tutti i costi anche per speculazioni infondate la difesa chiama a testimoniare anche Richard per permettergli di spiegare le prove della polizia e screditare le varie testimonianze delle persone portate dall'accusa Richard afferma di essere innocente e racconta che lui e Lori erano amici avevano trascorso del tempo insieme il giorno della sua scomparsa ma poi lei se n'era andata perché doveva vendere della sostanza leggera che i due avevano coltivato insieme emerge solo ora che lui e Lori avevano avuto una relazione fisica iniziata circa due mesi prima della scomparsa della ragazza il che spiegherebbe perché le lenzuola del letto di Lori risultassero sporche di seme erano andati a letto circa una settimana prima della scomparsa della ragazza tuttavia la famiglia e gli amici di Lori sono particolarmente perplessi sanno che Richard sta mentendo altrimenti Lori non si sarebbe di certo seccata quando lui le aveva confessato i suoi sentimenti tramite quella lettera che le aveva lasciato in casa per quanto riguarda la presunta vendita di sostanze la polizia non ha trovato una sola prova che corrobori la versione dei fatti di Richard Richard afferma che gli piaceva molto Lori e nella lettera che le aveva scritto le chiedeva proprio di iniziare una relazione con lui ma Lori gli aveva spiegato che non provava gli stessi sentimenti e da lui non desiderava nulla di più di un'amicizia Richard afferma che in realtà Lori non era così sconvolta dalla lettera certo non era felice ma non era neanche arrabbiata gli aveva semplicemente chiesto perché avesse aspettato così tanto a dichiararsi dicendo poi che erano amici da così tanto tempo che lei ormai non voleva che le cose cambiassero tra loro Richard nega di averla uccisa e per giustificare la presenza dei graffi sulle mani e sulle braccia in colpa la sua cagnetta bulldog racconta che stava giocando con lei e a un certo punto l'aveva graffiato ma allora perché non ha raccontato immediatamente questa versione dei fatti durante l'interrogatorio della polizia vi ricordo che aveva detto di non avere la minima idea di come se li fosse procurati durante la perquisizione della macchina di Richard è stato trovato uno spazzolone per pulire sporco di sangue anche in questo caso ovviamente Richard afferma che lo utilizzava per pulire la sua cagnetta ogni volta che la faceva salire in macchina quando aveva le mestruazioni si trovava costretto a ripulire dal sangue sia lei che il veicolo Richard dice anche che in quel periodo non era in possesso della chiave della sala da bullying in cui lavorava perché si era licenziato settimane prima che Lori scomparisse per lui quindi era impossibile prendere la tannica di benzina sempre stando alle sue parole non ha distrutto l'appartamento che condivideva con Abram e i tappeti che l'uomo aveva trovato e consegnato alla polizia non erano affatto quelle di Lori li aveva acquistati da Target inoltre nega categoricamente di aver mai detto a Terry di aver strangolato qualcuno Richard sta provando a smontare ogni singola prova contro di lui ma c'è una cosa che non può spiegare o confutare la presenza del suo sangue nella casa mobile di Lori l'accusa infatti chiede il sangue nella casa mobile di Lori corrisponde col tuo DNA come è arrivato lì? Richard risponde che non ne ha idea la difesa sottolinea che quello è un caso circostanziale e in effetti è vero ma tutte le prove raccolte dipingono uno scenario di ciò che è accaduto prima di tutto in casa c'erano segni di lotta quindi tutto porta a pensare che a Lori debba essere successo qualcosa per mano di Richard la difesa afferma inoltre che non è possibile provare che quei segni sul muro a casa di Lori siano stati fatti proprio al momento della sua scomparsa avrebbero potuto essere lì già da prima anche per quanto riguarda l'orecchino a cerchio con dei capelli incastrati anch'esso trovato sul luogo del presunto delitto non può essere collegato a Richard perché non vi hanno trovato alcun DNA tuttavia tutte le altre prove che hanno raccolto risultano in qualche modo collegate a Richard anche se lui prova a scraditarle quando non riesce a trovare una giustificazione il suo avvocato interviene sostenendo che sono state piazzate dalla polizia per incastrarlo la difesa inoltre prosegue sostenendo che il movente non abbia senso e chiede alla giuria se è davvero credibile che una persona ne uccida un'altra perché quest'ultima vuole mantenere un'amicizia invece di iniziare una relazione romantica l'accusa ribatte specificando alla giuria che quello non era amore ma un'ossessione che Richard non avrebbe superato facilmente dato che non faceva altro che parlare costantemente di quanto amasse Lori e di quanto Lori fosse perfetta a chiunque fosse disposto ad ascoltarlo era addirittura entrato di nascosto in casa sua per lasciarle quella lettera dimostrando chiaramente di non rispettare i suoi confini l'accusa mette in dubbio anche la versione di Richard riguardo alla loro presunta relazione intima affermando che è molto facile per lui affermare di aver avuto rapporti intimi consensuali con una donna che sa che non può smentirlo perché è deceduta dopo dieci giorni di processo la giuria viene incaricata di deliberare se troveranno Richard colpevole sarà compito loro stabilire se dovrà trascorrere la vita in carcere senza possibilità di libertà condizionale o se sarà condannato a morte tramite iniezione letale dopo due giorni la giuria giunge alla conclusione che Richard Ennis è colpevole di due capi di imputazione per omicidio capitale di furto con scasso e sequestro di persona reati che considerati nel loro insieme comportano la pena di morte questa decisione viene presa nonostante non sia stato ritrovato il corpo senza vita di Lori la madre di Lori Arlene si sente sollevata può finalmente lasciarsi questa orribile storia alle spalle dopo il verdetto dice credo che Lori e tutta la sua famiglia stiano festeggiando in cielo oggi riferendosi anche a Casey e Paul ovvero il padre e il fratello di Lori deceduti poco tempo prima dopo il verdetto Arlene va dal giudice e dichiara di non voler perseguire la pena di morte per Richard sebbene inizialmente fosse incerta dopo che il procuratore le aveva spiegato cosa comportasse una condanna a morte aveva preso la sua decisione Arlene non voleva affrontare i lunghi appelli che seguono inevitabilmente una sentenza di pena capitale il 14 aprile 2022 Richard Dennis viene quindi condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata gli agenti che hanno riaperto il caso sono così orgogliosi del lavoro svolto l'agente speciale Mark Whitaker ha dichiarato che il giorno in cui hanno condannato Richard all'ergastolo è stato il più bello della sua carriera tuttavia né lui nel pubblico ministero si sentono completamente appagati entrambi riconoscono che nonostante l'assassino di Lori sia ora dietro le sbarre il fatto che non voglia rivelare dove abbia nascosto il corpo lascia loro un senso di insoddisfazione l'agente speciale aggiunge anche di aver avuto a che fare con molte persone malvagie nel corso della sua vita ma Richard Ennis le batte tutte si ritiene che Richard sia andato da Lori l'abbia aggredita e infine strangolata con il cavo del telefono dopo la sentenza Arlene riesce a far trasferire la casa mobile di Lori nella sua proprietà dice che trascorrendo quel tempo in quella casa le sembra di sentire Lori più vicina e a volte le parla come se fosse ancora lì con lei se ricordate vi ho detto che durante il processo per l'omicidio di Lori nessuno sapeva che Richard aveva ucciso i suoi genitori quella notizia non era di dominio pubblico ma dopo la condanna la verità avviene a galla le sue tre sorellastre rilasciano una dichiarazione in cui affermano che molte persone credono che i bambini non possano commettere questi tipi di crimini volontariamente e in molti quindi pensano che non debbano scontare pene molto lunghe ma questo non è assolutamente vero sono contente che Richard sia stato trovato colpevole e condannato all'ergastolo si sentono molto sollevate e ritengono di aver ottenuto una sorta di giustizia perché vi ricordo che Richard per aver ucciso sua madre e il suo patrino a 12 anni è rimasto in carcere per meno di un decennio successivamente è stato rilasciato e ha commesso un altro delitto una delle sorellastre di Richard afferma che in un certo senso danno la colpa allo stato per la morte di Lori dice la violenza che avviene nello stato e in tutta la nazione non ha limiti di età i tribunali non dovrebbero essere vincolati da una legge statale che afferma che i bambini di età inferiore ai 14 anni non possono essere processati come adulti questo caso non è la prova vivente se Richard avesse ricevuto una punizione che meritava quando ha ucciso due persone a 12 anni Lori non avrebbe perso la vita per mano di questa persona malvagia lo stato dell'Alabama deve cambiare le sue leggi sostengono che la pena non dovrebbe essere determinata solo dall'età ma dalla totalità delle circostanze ogni bambino matura in modo diverso ha esperienze di vita diverse livelli di istruzione diversi pertanto la pena dovrebbe essere commisurata alla gravità degli atti commessi non solo all'età arriviamo quindi alle conclusioni questo è un caso davvero triste richard avrebbe chiaramente dovuto passare più tempo in carcere per aver ucciso sua madre e il suo patrigno il caso di Lori mi ha profondamente commossa e sua madre Arlene si è dimostrata una persona coraggiosa e determinata non si è mai arresa e alla fine ha ottenuto giustizia per sua figlia se Richard non fosse stato arrestato sicuramente avrebbe ucciso ancora e a questo punto spero che non veda mai più la luce del sole da uomo libero Lori era un'anima meravigliosa con tutta la vita davanti a sé e non meritava di essere portata via in un modo così brutale e spietato spero che riposi in pace e che si sia riunita al suo padre Casey al suo fratello Paul e al suo dolce cagnolino Peanut però anche che Arlene continua ad essere forte perché credo sia dura per lei adesso che non ha più nessuno accanto secondo voi i bambini che commettono atti atroci come quelli di Richard dovrebbero essere sempre processati come adulti subendo punizioni più severe? a mio avviso è sbagliato fare di tutta l'erba un fascio sarebbe meglio valutare caso per caso spero tanto che un giorno il corpo di Lori venga ritrovato e possa ricevere una degna sepoltura in questo modo Arlene la sua mamma avrebbe un posto dove poterle fare visita deve essere doloroso per lei entrare nella casa mobile un luogo pieno di bei ricordi di sua figlia ma anche pieno di sofferenza perché è lì che Lori è stata uccisa io ho finito di parlare in questo video e sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni su questo caso quindi fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti scrivetemi quello che volete io ringrazio nuovamente Too Good To Go per aver sponsorizzato questo video e vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti